Avete presente quando vi arriva l'amica a casa all'ultimo minuto e vi dice Prendiamo un aperitivo? Tutto meraviglioso, ma io ho il frigo vuoto, non ho patatine, non ho noccioline e non so cosa darle perché è anche intollerante al glutine Tranquilli, niente panico Due uova, un po' di parmigiano, un pizzico di sale Le zucchine tagliate ma ancora crude Le metto tutte a torretta e poi le piazzo in forno Un po' di vino, una birra, quelli in frigo li ho sempre E anche l'aperitivo con l'amica celiaca eppure a dieta perché mi ero dimenticata di dirvelo È fatto Quindi anche per oggi allacciate i grembiule e provateli anche voi